Il Manfredonia 2000, dopo la vittoria in Coppa Puglia e l'accesso ai play-off ad un anno dalla nascita, viene ripescato nel campionato nazionale di calcio a 5 femminile serie A2. Mister Martino Portovenere, allenatore della squadra di calcio a 5 femminile Manfredonia 2000, una grandissima stagione l'anno scorso al tuo esordio. Hai disputato con questa squadra i play-off, purtroppo non li avete vinti, però un'ottima stagione e quest'anno invece vi ritrovate a dover disputare un campionato nazionale di A2. Eh sì, lo scorso anno è stato l'anno zero per questa società, in realtà ancora non abbiamo neanche un anno di vita perché l'affiliazione è stata fatta a metà settembre, quindi i risultati che abbiamo ottenuto sicuramente sono molto ma molto importanti. Ormai è passato, però sicuramente restano nella mente di tutti noi la vittoria della Coppa Puglia, la finale nazionale, i play-off. E quest'anno insomma il presidente Donato Fortunato aveva voglia di fare un campionato un po' più importante, che forse, diciamo senza il forse, era un po' più adeguata a quelle che erano le nostre forze, la nostra organizzazione. Per questo è nata questa idea di poter disputare il campionato nazionale di Serie A2. Sono state fatte tutte le pratiche burocratiche, pochi giorni fa la Covisoc ci ha dato l'ok. E niente, adesso aspettiamo la formulazione dei calendari il 3 di agosto. Quando è che partirà questo campionato? Questa stagione inizierà per noi il 4 di settembre con l'inizio della preparazione. Nel frattempo tutte le ragazze giungeranno a Manfredonia e quindi avremo piena disponibilità di tutta la rosa. Ecco, mister, partecipare a un campionato nazionale di A2 comporta anche la creazione di un settore giovanile, di una squadra giovanile? Certamente sì, perché la forza di una società è sicuramente il settore giovanile. Nel femminile il settore giovanile è un po' sempre stato sottovalutato, nel senso che non esistono comunque settori giovanili e femminili. Per questo noi, siccome il nostro è un progetto sicuramente che guarda al futuro, quindi guardando al futuro è normale che si pensa alla scuola calcio, si pensa al settore giovanile e poi alla prima squadra. Il campionato di A2 è certamente un campionato collettivamente più difficile e più tecnico rispetto a quello dell'anno scorso. Immagino che la società abbia operato sul mercato per rinforzare la rosa a sua disposizione, no? Certamente sì, fermo restando che è giusto ringraziare tutte le ragazze che fino adesso hanno fatto parte di questo gruppo. Era chiaro che per impegni di lavoro o comunque impegni scolastici non tutte potessero eseguire questa avventura. Chiaramente magari dopo sarà il presidente Donato Fortunato a indicarvi quelli che sono stati gli acquisti, perché è giusto che sia così e della prossima stagione sicuramente mi posso ritenere non soddisfatto ma molto ma molto di più degli sforzi che la società ha fatto per portare a Manfredonia delle ragazze di categoria che sicuramente ci daranno la possibilità di ben figurare in questo campionato. Ecco, ci saranno trasferte lunghe da fare quest'anno rispetto all'anno scorso? La problematica è appunto questa, se giorno 3 che la federazione compilerà i gironi o 3 o 4, capiremo un attimino le trasferte. Sicuramente il girone di A2 è un girone che interessa l'Italia meridionale che può andare sia dalla Sicilia fino a Lazio, quindi è passando per la Basilicata, le Marche, la Calabria, quindi sicuramente avremo una visibilità e chiaramente anche dei sacrifici superiori a quelli dello scorso anno. Benissimo, non mi resta che farle in bocca al lupo. Crepi il lupo e speriamo bene. Giovanna, l'anno scorso hai disputato un ottimo campionato nella Serie regionale e la Serie C e quest'anno ti appresti ad iniziare una nuova avventura nel campionato nazionale di A2. L'anno scorso è stato un bel campionato, abbiamo vinto la Coppa Puglia, grande soddisfazione per noi perché siamo partiti da zero e da qui abbiamo avuto una grossa spinta a partecipare al nuovo campionato, al ripescaggio e da qui partiamo da un grande sogno per me e per tutte, sia le confermate che le new entry che sono abbastanza forti come mi hanno parlato e abbiamo una grande voglia di ricominciare da capo. Beh, quest'anno per un pizzico purtroppo avete sfiorato la promozione in A2 che poi comunque è arrivata nei play-off. Che cosa è accaduto? Che cosa vi è mancato per vincere i play-off? Beh, avevamo tutte le prospettive per vincerlo, il campionato era lungo, la Coppa è stata abbastanza faticosa, le forze ci sono venute a mancare, i cambi erano pochi, quindi avevamo poca sprint finale. Penso che questa esperienza ci ha dato forza per l'anno prossimo e niente, abbiamo questa esperienza in più che faremo meglio. Hai avuto modo di relazionarti alle nuove calcettiste che arriveranno qui a giocare con voi la prossima stagione? Beh, non ancora, spero di avere i prossimi allenamenti per conoscerci e credo che non ci siano problemi, anzi. E cosa ti aspetti da questa stagione? Beh, si inizia con buone prospettive, chissà avremo delle grandi soddisfazioni. Ci saranno trasferte lunghe però? Beh, credo che non ci siano problemi, il nostro sogno andrà avanti comunque. Presidente, lei l'avrebbe mai pensato che dopo due anni quest'anno si ritrovava a disputare un campionato di A2? Diciamo, credere in questa cosa ci ho sempre creduto. Partire con un progetto nuovo l'anno scorso e trovami quest'anno in A2 è una cosa che ho sempre creduto e sperato fino all'ultimo. Ho cercato di fare questo progetto di A2 perché a Manfredonia lo sport, come ben si sa, non è ben visto dal lato femminile. Quindi quest'anno vogliamo dare qualcosina in più nello sport della città e quindi far figurare anche le ragazze del nostro paese e quindi rendere visibile questa società un po' sconosciuta a tutti. Ecco, benissimo. Già l'anno scorso ho avuto modo di assistere ad alcuni incontri qui al Palato Maiuolo. Immagino che quest'anno sull'entusiasmo aumenterà il pubblico. Lei pensa che si giocheranno le partite qui al Palato Maiuolo oppure al Palas Caloria? Allora, al momento noi abbiamo dato come disponibilità di campo il Palato Maiuolo. Abbiamo l'alternativa del palazzetto in base alla federazione che manderà un ispettore a prendere tutte le misure per vedere se c'è la disponibilità di capienza dei spettatori e tutto. Però abbiamo anche il palazzetto dello sport in via Caloria che è disponibile già da subito. E che comunque sia, adesso il Palato Maiuolo è omologabile per la disputa del campionato di A2. Sì, sì. Ecco, lei pensa di dover fare degli abbonamenti, qualcosa per assistere alle gare o ci sarà l'ingresso gratuito? Per il momento ci sarà l'ingresso gratuito perché quello che penso io voglio avvicinare più gente possibile alla squadra. Iniziare con degli abbonamenti o con far pagare il biglietto sarebbe una cosa che non tutti farebbero. Quindi ingresso gratuito e poi in un futuro sperare di fare qualcosa di diverso perché fare un abbonamento, far mettere il biglietto a pagamento può essere un'entrata per la società e per permetterci di sostenere delle spese che ci sono durante il campionato. Ecco, Presidente, disputare un campionato di A2 ha certamente dei costi maggiori a quelli che lei ha sostenuto l'anno scorso. Immagino che ci sia qualcuno che l'aiuta, ci sono dei soci sostenitori, come pensa di affrontare economicamente questo campionato? Ci sono sicuramente dei sponsor che continueranno a darci una mano, sono a conferma anche della stagione passata. Quest'anno stiamo cercando di ingrandire il progetto con nuovi sponsor che sono entrati e credo che fino a fine campionato, con i costi già messi a preventivo, dovremmo stare tranquilli per arrivarci tranquilli. Ecco, Presidente, quest'anno ha scelto Vincenzo Tavano come direttore sportivo, quindi è una new entry. Quindi immagino che il direttore sportivo stia operando o abbia già operato sul mercato per far approdare qui, in questa società, nuove giocatrici. Allora, Vincenzo Tavano io non lo conoscevo, mi è stato presentato e da subito gli ho dato il comito del direttore sportivo perché ho visto che era una persona abbastanza in gamba. Si è mosso bene sul mercato, ha chiuso trattative importanti, quindi ha lavorato bene fino ad oggi e credo che è un punto di riferimento della società abbastanza importante. Quali sono le nuove calciatrici che stanno arrivando qui a Maffredonia? Allora, al momento abbiamo, di confermata abbiamo Papapicco Sabina, che l'anno scorso giocava a Martina in Serie A2, poi abbiamo un'altra ragazza che proviene dal Calcio A11, Sara Della Mura, poi abbiamo un altro portiere che è Mastrizzi-Marylin e poi abbiamo in arrivo le due spagnole che abbiamo chiuso ieri tutti i trasferimenti e sono Silvia Rubal e Jessica Nogales. Siamo in conclusione tra domani e lunedì di chiudere altre due trattative, quindi la squadra è quasi formata. Con gli acquisti fatti siamo a buon bundo e credo che possiamo toglierci il salsolino dalla scarpa perché credo che la squadra può fare bene. Benissimo, la squadra può fare bene, quindi sarà certamente un'esperienza positiva quella che la squadra si appresta ad effettuare nel campionato di A2 nazionale. Quali sono gli obiettivi? Permanenza oppure c'è il sogno magari di vincere il campionato e passare in A1? Allora, il progetto è sempre di partire con i piedi per terra e di rimanere nella categoria. Noi siamo una società nuova, tutto quello che viene serve per far crescere le ragazze e se poi arriviamo ai play-off, arriviamo alla Coppa, tutto viene durante il cammino del campionato.